Un semplice pensiero positivo al mattino può cambiare l'intera tua giornata. Dalai Lama Se credi che funzionerà, vedrai opportunità. Se non ci credi, vedrai solo ostacoli. Wine Deer L'unico modo per migliorare è quello di circondarti di persone che credono in te. I tuoi clienti più scontenti sono la tua più grande risorsa di conoscenza. Bill Gates La vera conoscenza è riconoscere i limiti della propria ignoranza. Confucio Un giorno ti sveglierai e non avrai più tempo per fare le cose che hai sempre voluto fare. Falle adesso. Paolo Coelho La nostra più grande debolezza sta nel rinunciare. Il modo più sicuro per avere successo è sempre quello di provare ancora una volta. Thomas Edison La vita è il treno, non la stazione. Paolo Coelho Se cammini solo durante i giorni di sole, non raggiungerai mai la tua destinazione. Paolo Coelho Se vuoi avere successo, devi rispettare questa regola. Non mentire mai a te stesso. Paolo Coelho Ridono di me perché sono diverso. Io invece rido di loro perché sono tutti uguali. Kurt Cobain Se hai intenzione di provarci, vai fino in fondo. Altrimenti non iniziare nemmeno. Charles Bukowski In particolare nel mondo degli affari, il successo si raggiunge lavorando con le persone e non contro di loro. Kate Ferrazzi Per avere successo, devi accettare tutte le sfide che arrivano sulla tua strada. Non puoi accettare solo quelle che ti piacciono. Mike Gaffga Niente al mondo è mai completamente sbagliato. Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Paolo Coelho Un bambino può insegnare ad un adulto tre cose. Essere felice senza motivo Essere sempre occupato con qualcosa E sapere come pretendere con tutte le sue forze ciò che desidera. Paolo Coelho La tragedia della vita non è la morte, ma ciò che facciamo morire dentro di noi mentre ancora viviamo. Norman Cousins Non cercare clienti per i tuoi prodotti, cerca invece prodotti per i tuoi clienti. Set Godin Un piccolo gesto gentile può cambiare la vita a qualcuno per sempre. Se lo puoi sognare, lo puoi anche fare. Walt Disney Puoi essere contemporaneamente sia un capolavoro che un lavoro in corso. Sophia Bush Mentre parli, stai solo ripetendo quello che tu già conosci. Ma quando ascolti, puoi imparare qualcosa di nuovo. Dalai Lama La sola cosa che separe il successo dal fallimento è un ultimo tentativo. Prova ancora una volta E troverai fortuna A Purve Dubai Non sprecare le tue energie cercando di cambiare le opinioni degli altri. Fa quello che senti, senza preoccuparti se a loro piacerà oppure no. Tina Fey Forma il personale abbastanza bene in modo che ciascuno possa cambiare azienda. Trattalo abbastanza bene in modo che non lo voglia mai fare. Richard Branson Va bene festeggiare il successo, ma è ancora più importante ascoltare la lezione dei fallimenti. Bill Gates Non esiste orario d'ufficio per i leader. James Gibbons L'investimento nella conoscenza ripaga i migliori interessi. Benjamin Franklin Concentrati sull'essere produttivo piuttosto che essere semplicemente occupato. Tim Ferriss Un errore ripetuto più volte non è altro che una consapevole decisione. Paolo Coelho La parte più dura dell'essere imprenditore è che si fallisce dieci volte per ogni singolo successo. Adam Horowitz Il costo di fare uno sbaglio è più basso del costo di non fare niente. Seth Godin Non penso che nessuno abbia cominciato un grande business solo perché voleva guadagnare qualche soldo in più. Ognuno di loro aveva un sogno e voleva migliorare la propria vita. Robert Erjoic Invece di chiederti quando sarà la tua prossima vacanza, forse dovresti creare una vita da cui non hai bisogno di fuggire. Seth Godin Un uomo di successo è colui che riesce a gettare delle solide fondamenta usando i mattoni che gli altri gli avevano lanciato contro. David Brinkley Voglio che il mondo sia migliore perché io ero qui, Will Smith Il solo vero errore è quello da cui non impariamo nulla. Harry Ford Se poni i tuoi obiettivi ad un livello notevolmente alto e poi fallisci, fallirai al di sopra dei piccoli successi di tutti gli altri. James Cameron La strada verso il successo e la strada verso il fallimento è quasi esattamente la stessa. Colin Davis Sii coraggioso, corri dei rischi, niente può sostituire l'esperienza. Paolo Coelho Insegui la tua visione, non il denaro, perché a quel punto sarà il denaro a inseguire te. Tony Hsieh Insegui la tua visione, non il denaro a inseguire te.